Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì, sono rotte le cuffie. È un po' bagnato il letto. È un po' bagnato perchè ha piovuto un po'. Quindi... L'ho ripassato. Oh, andò. Eh. Sta a posto? Dice. Che dici? Non ti senti, andò, ora ti sento. C'è nati nei 6.000 euro di computer. Come fai a non senti nulla? Porco Dio, è su Discord! Dio porco, chi cazzo è che la tu strunzo rispama questa giornata? Ma come sempre c'è nata, Dio porco. Non puoi strunzare. Ma chi è? No, ma non c'è la maronna troia. Quella troia. Conosci quella troia chiamata Madonna? Lei che hanno fondato... Guarda, lo disattiva su uno. Fa una c**lla la Madonna. Guarda qua. Guarda troppo dalla venza. Se ti manca chiude. Oh. Ma Gesù lì. C'è tutti i soldi. Stai volendo a fare. No, ma fiozzic. Ma io non si è detto. Porco Dio, dai. Non posso fare mai così. Quando ho adesito tante cose che sono successe. Tanta gente pensa. Alcuni mi fermano. Maestro mi fa una scorreggio. Oppure maestro mi fa questo. Ragazzi dico. Non è che ce l'accomando le scorreggio. Capite? Invece sono io proprio così ragazzi. Si. Quindi se sono maturato adesso. E' perché sono maturato. Capite? Non riesco. Nei. Ma non le posso fare. Vercule. Ah? Perché? Avevo lei solo, ma è arrivato proprio un burro. Abbassi quella fiamma. Mamma. forse non ci crederai ma nel mondo c'è qualcuno che vede la luna sotto sopra le persone che abitano nell'emisfero australe infatti hanno una visione ribaltata del nostro satellite cose dell'altro io maledetto la stanza E perché fai così? Non dà la dente, dai, non dà la dente. Alexa, accendi pioggia. A 5 ore finisce tutto, Jenny? Ah, sì. Poi che piani hai? 24 ore di fuego. No, in che senso 24 ore di fuego? Non l'ha capito. No, 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 no. Le dì, ah. Le coppie de granos. via vedi palo di nuova palo di nuova le palle la 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 Questi sono i rani Senti Senti Con cazzo ci fanno dormire Ma io cazzo Ma sei cretino No è cretaci Io sto in ansia Non lo so Domani le zampe tirano a fritte Senti Ma brutto cazzo in da sta chat Facito su le commenti esagerate Ma mangio cazzo, ma brutto cazzo BASTA Ma pare che mangio assai 70 camere, 200 camere e zucchero Poche salmone BASTA Ma brutto cazzo Sta maratona Ma mangio a fangule Che avevo 24 ore in dolietta BASTA Ho piacere già faccio più Con questi commenti GTRP Basta ma brutto cazzo Guarda qua ci sono anche le tv regionali Sembra ci sta pure cazzo 21 Vediamo un po' che ci sta A casa Sarai 4 Pensate Dice come vanno Se vanno in chat Volevo andare su Instagram Alexa Gioca a tennis Volevo andare su Instagram E' Grazie. Senti che lei perché il condizionatore qua dell'officina fa sto rumore? L'hai sentito? Allora, c'è il blocco motore.